Nuove e importanti iniziative dedicate ai cittadini saranno ospitate nella stazione di Popoli Vittorito, grazie al progetto del gruppo FS Stazioni del Territorio, che mette a disposizione delle comunità diversi servizi per favorire la rinascita dei piccoli centri. Quella di Popoli Terme è una delle cinque stazioni pilota destinate a diventare dei veri e propri hub polifunzionali con numerose iniziative messe in campo, tra cui lo screening gratuito per la prevenzione dell'osteoporosi attraverso l'uso della MOC, che può essere prenotato dai cittadini consultando il proprio medico di famiglia. A parlarne è il dottor Francesco Simoncelli, farmacista di Popoli Terme. Inauguriamo questo nuovo tipo di servizio che fa parte della farmacia dei servizi, voluta da Federpharma a livello nazionale, e che sarà un'innovazione importante perché sarà di primo impiego per quanto riguarda dei servizi al cittadino, che vanno dall'elettrocardiogramma, l'oltercardiaco, l'olterfressorio, analisi di sangue di primo impiego, tipo glicemia, colesterolo, trigliceridi, queste analisi che sono importanti per l'evoluta del cittadino. e noi praticamente da questo momento iniziamo questo tipo di nuova impostazione che con le ferrovie dello Stato praticamente ci hanno offerto una possibilità di innovazione importante. Con il progetto Stazioni del Territorio di Ferrovie dello Stato c'è spazio anche per le associazioni, come la cooperativa sociale Horizon Service, che ogni martedì è in stazione per prevenire e contrastare la violenza di genere attraverso la promozione culturale e la sensibilizzazione, offrendo sostegno alle donne che hanno subito violenza. Anche l'associazione italiana Sclerosi Multipla sarà presente due giorni a settimana per attività di piccola riabilitazione che si affiancano a riabilitazioni più complesse che continueranno a svolgersi presso la sede di Pescara. L'Italia ha un tessuto importante rappresentato dai nostri comuni, ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo FS Luigi Ferraris alla presentazione del progetto avvenuto lo scorso aprile. Il gruppo FS ha 2.200 stazioni operative, di cui 1.200 nei comuni sotto i 15.000 abitanti. Pertanto abbiamo la responsabilità sociale che non vengano spopolati e che rimangano vivi. Rigenerare i piccoli comuni attraverso nuovi servizi nelle stazioni è dunque l'obiettivo dell'iniziativa che il gruppo FS ha realizzato attraverso accordi stipulati già a partire dallo scorso anno. Il progetto Stazioni del Territorio è previsto in 5 stazioni pilota situate nelle 4 regioni del centro Italia coinvolte nei sismi del 2009 e del 2016 e in Abruzzo lo scalo ferroviario coinvolto è quello di Popoli Vittorito.